Questa è la tua prospettiva, caro Lucilio. Se sarai perseverante, ti applicherai con zelo e agirai in modo che tutte le tue azioni, ogni tua parola si armonizzino fra loro, trovino reciproca corrispondenza e siano forgiate su un medesimo stampo, tu sarai un uomo completo, compiutamente libero e buono. Vi è una certa stortura nell'animo di una persona, i cui atti sono in discordanza fra loro. Stammi bene. Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti per starvene ancora chiuso con i miei libri in questa stanza come un vigliacco azioso sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo sancio c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, forse anche un sogno amato, vami a prendere la sella che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia delta, dulcinea del dobboso. E a te sancio io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto. Forza, assellami il cavallo, tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante. E con questo cuore puro, col mio scudero onzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore. Che meraviglia di cose, mamma mia, questo è Sancio Panza, Don Chisciotte con Biondini se non ricordo male, sì dovrebbe essere Biondini, Biondini che fa la voce di Sancio Panza. Juan Carlos Biondini, Flaco, Flaco Biondini, come no, come no. Ed è la perseveranza anche nel sogno, in questo caso è la perseveranza nel sogno. Cioè lui Don Chisciotte dice ma io non mi voglio arrendere. Se c'è uno dei... Talvolta mi capita che qualcuno magari mi dica delle cose nelle quali mi piacerebbe credere. La logica, la coerenza, mi farebbe piacere pensare che qualcuno pensi una cosa del genere. Penso che farebbe piacere a chiunque. E talvolta mi viene detto, io dico a me, forse mi devo celiare, mi stai prendendo in giro. Vai Don Chisciotte, vai! Che meraviglia, che meraviglia. Questo qui lo tratteremo per tre punti, Don Chisciotte, Francesco Guccini. Guccini, adesso facciamo un salto indietro caro Gaetano, un salto indietro nel tempo rispetto a Seneca. Dai, scendi!